Perciandete amici temi! Benvenuti in questo nuovo video sulla lingua albanese con me, Viola. Oggi vi voglio insegnare come dire in albanese mi ricordo. Cominciamo! Quindi in albanese mi ricordo si dice mkuitohet. Ad esempio mi ricordo di quell'uomo, mkuitohet aibur. Come vedete la forma è lo stesso. Mi, mk. Ricordo kuitohet, quel, aib, uomo, bur. La stessa forma per la donna. Mi ricordo di quella donna. Mkuitohet aio grua. Se vuoi dire a qualcuno mi ricordo di te, in albanese si dice mkuitohes ti. Se vuoi chiedere a qualcuno ti ricordi di me, in albanese è atto kuitohem un. La risposta può essere sì, mi ricordo di te. Po, mkuitohes. Po, mkuitohes. Oppure no, non mi ricordo di te. Io, nuk, mkuitohes. Io, nuk, mkuitohes. C'è un'altra forma. Ad esempio, te lo ricordi? Te lo ricordi quella cosa? In albanese è aembanment. Aembanment. Quel e è al posto di lo. Quella cosa. Aembanment. Te lo ricordi? Ad esempio, te lo ricordi dove eravamo l'estate scorsa? Aembanment ku ishim vera se kaluar? Aembanment ku ishim vera se kaluar? Oppure, te lo ricordi il nome di quell'uomo? Aembanment emrin ea ti burit? Aembanment emrin ea ti burit? Sì, me lo ricordo. Po, embaimment. No, non me lo ricordo. Io, nuk, embaimment. Un'altro esempio, non mi ricordo dove ero jeri. Nuk embaimment ku isha dje. Nuk embaimment ku isha dje. Oppure, non mi ricordo, come si dice, in albanese. Po, dire, nuk embaimment si thuhet në Shqip. Nuk embaimment si thuhet në Shqip. Oppure, una koza more të frekwente, non mi ricordo koza o manjato jeri. Nuk me kujtohet, qfar hëngra dje. Nuk me kujtohet, qfar hëngra dje. Oppure, nuk embaimment, qfar hëngra dje. Nuk embaimment, qfar hëngra dje. Qësto e un esercizio per te. Quindi, qëme si dëce në albanese, në në mi ricordo come si chiama questo fiore. Allora, në në usate Google Translate. Dovete farlo dë soli. Quindi, fiore në albanese si traduce lële. Lële. E si chiama në albanese e tjuhet. Tjuhet. Scrivilë nel commento sotto il video. Vurë vedërë tanti, tanti, tanti commenti. Vi aspetto. Qëndi, se vi piacciono i miei video, iscriviti sul më canale, Viola G.J. Ho la pagina Facebook, Let's Learn Albanian. Il gruppo Facebook, siamo almeno mille persone. Learn Albanian with Viola. Instagram, Learn Albanian with Viola. Twitter, Alp with Viola. E se volete scrivermi un'e-mail, gilbegai-gmail.com. Scrivetemi. Vi abbraccio tutti. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Da me, Viola. Miro pafshim.